Con il progetto italiano Virgo ha contribuito alla scoperta delle onde gravitazionali, che un anno fa è valsa il conferimento del premio Nobel per la fisica. Ieri Giancarlo Cella ha raccontato un pezzo di storia del pensiero scientifico ai ragazzi dell'Iceo di Roccella, nell'ambito di un'iniziativa promossa dalla Scuola di Filosofia. Ecco, in questi ultimi due anni abbiamo fatto una serie di osservazioni che ci hanno permesso di vedere, di rivelare per la prima volta direttamente queste onde gravitazionali, di rivelare per la prima volta un fenomeno fisico che è la collisione di due buchi neri uno nell'altro e poi finalmente, come ultima scoperta, la prima rivelazione dello scontro fra due stelle e neutroni, anche in questo caso un evento che insieme alle altre cose produce onde gravitazionali. Per gli studenti roccellesi è stata anche una ghiotto occasione di confronto filosofico con la scienza. La fisica stessa è uno sguardo teorico sulla realtà, sul mondo, sulla natura. Non è solo esperimento, è anche teoria. Soprattutto l'ultima fisica, la fisica del Novecento, ha questo taglio prettamente filosofico, se vogliamo. Ilario Balì, per la Cineus 24.